John Borno, John Borno, John Borno ragazzi, John Borno. Allora vanno fatte indubbiamente delle valutazioni dopo ieri, è stata una grandissima giornata di calcio, non tanto per la UEFA Champions League in realtà anche sì, ma soprattutto per la nostra Serie A. Perché dico questo? Perché la nostra Serie A è stata indirizzata in un certo modo, perché ieri è successo quello che ci aspettavamo secondo me, perché la Juventus era obbligata a vincere, perché l'Inter aveva in mano, in pugno, la probabile vittoria contro il Sassuolo, però erano partite che dovevi vincere, erano partite che dovevi in qualche modo portare a casa e queste l'hanno portate a casa. Quindi voglio parlare di questo, prima di iniziare però vi ricordo che da oggi ragazzi sono molto fiero di dirvelo, Ad Maiora è il mio libro, eccolo qua, l'ho scritto io, non me lo sono fatto scrivere, l'ho scritto io, non è un libro di quelli da youtuber con le foto e basta, è scritto veramente, l'ho trovato in tutte le librerie, Feltrinelli, Mondatori, IBS, lo trovate su Amazon, quindi acquistatelo da oggi, lo trovate su Santelli, trovate i link in descrizione, quindi mi raccomando ci tengo veramente tanto ragazzi, se mi volete bene acquistatelo, perché per me è molto molto importante, e poi se mi mandate le foto su Instagram che l'avete acquistato vi ricondivido molto volentieri. Detto questo e fatto questo piccolo spazio pubblicità, passiamo a parlare del concetto principale, io è da inizio anno che sento lamentarsi gli interisti e non solo, cioè anche gli altri sento parlare a Bambera, di questi fantomatici 12 milioni di Antonio Conte, e sinceramente è una cosa che non concepisco, è una cosa che non comprendo, ed è una cosa che non accetto. Innanzitutto i 12 milioni di Conte non li danno i tifosi dell'Inter e non li danno nemmeno i tifosi delle altre squadre, i 12 milioni a Conte li danno la società per portare l'Inter a vincere lo scudetto. Ora non so se l'Inter avrebbe comunque vinto lo scudetto senza Antonio Conte, io sinceramente questa cosa non la so, però comunque fatto sta che c'è Antonio Conte e con Antonio Conte l'Inter vince lo scudetto. Secondo me è questo, cioè poi per tutto il resto le ghiacchiere stanno a zero, c'è poco altro da inventarsi, questo è il concetto totale. Quindi che l'Inter dia 12 milioni a Conte, secondo me è veramente poco importante, anzi, cioè io veramente penso che metterò un titolo forte, tipo con le cazzate che dite, cioè ci camminano i treni, ci fanno camminare i treni, perché ragazzi miei, nel senso, ma che cazzo ho sentito dire, ad esempio, ma è il minimo, Conte ha fatto il minimo, è uscito dalla Champions come ultimo, è uscito dalla Coppa Italia, ci mancherebbe che non vinca il campionato, ragazzi non è scontato nulla, la Juventus monopolizza il campionato da nove anni, non è scontato niente, niente è scontato se non una Juventus che vince lo scudetto. Quindi se l'Inter vince lo scudetto spezzando un monopolio di nove anni, vuol dire probabilmente che Conte sta facendo una grande cosa, e soprattutto, lo sentivo ieri in live, da quando, da quando, la Serie A è a tre punti, l'Inter non ha mai vinto le prime dieci partite del girone di ritorno. L'Inter la conosciamo, l'Inter è la squadra che solitamente parte bene, ha tutti i favori del pronostico, e poi crolla tra gennaio, febbraio e marzo, comincia a perdere punti a cazzo di cane. Questa notte, quando è ricominciato il girone di ritorno, in dieci partite l'Inter ha fatto dieci vittorie. Ma che cosa gli vuoi dire? Ma che cosa gli vuoi dire? Ma di che cosa ti vuoi lamentare? Ma dove vogliamo andare a parare, ragazzi miei? Parliamoci chiaro, qua si parla di una situazione che, secondo me, non ha paragone, non ha nessun tipo di voce in capitolo. Se l'Inter riesce a vincere lo scudetto, Conte ha fatto una gran cosa, ha spezzato un monopolio, e questa è una cosa per cui non sono per niente d'accordo quando sento dire appunto che Conte 12 milioni sta facendo il minimo Conte e sta facendo il massimo, sta portando a casa lo scudetto con i punti fatti ieri. L'Inter l'ha ipotecato lo scudetto, ragazzi, l'Inter l'ha chiuso. Lo scudetto con i punti fatti ieri l'Inter lo ha chiuso. E sinceramente sono anche stufo di sentire cazzate. Diamo meriti a chi lo merita. Non è che bisogna sempre dire che chi vince c'è sempre qualcosa che non va e qui e là. Ma ragazzi, se l'Inter vince e merita, c'è poco da dire. Io da romanista avrei voluto vincere, certo, lo scudetto, anche se non lo vinco mai. Io da romanista, a proposito del mio libro, non parla di Roma. Quindi possono acquistare qualcuno, me l'ha chiesto, no, non parla assolutamente di Roma. Quindi non c'è nulla che parli di Roma, tranne una foto con Totti, che se me la trovo ve la faccio vedere. C'è una foto con Totti all'interno del mio libro, però al di là di questo non parla di Roma. Però io da romanista avrei voluto, volentieri, avrei accettato... Per prima cosa, scarica l'app Google Home da un telefono o un tablet. Para empezar, descarga l'applicazione Google Home in un telefono o tablet. Google è impazzito. Vabbè, stavo dicendo, non parla di Roma. Comunque, mi sono cagato sotto, ragazzi, lo giuro, di prima mattina mi sono cagato sotto, è finita, mi stanno sparando dietro. Detto questo, facciamo rapidamente le pagelle, non dell'Inter. Anzi, parliamo prima dell'Inter, facciamo una sorta di post partita, perché ieri non l'ho fatto e vi avevo promesso. E poi facciamo le pa-pa-pa-pa-pa-pa-gelle di Juventus Napoli. Quindi una sorta di day after, perché anche questo ve l'avevo promesso. Allora, post partita rapido di Inter-Sassuolo, c'è poco da dire. Il Sassuolo tiene il pallone. Molto spesso la palla ce l'ha il Sassuolo. Cerca, in modo anche piuttosto fastidioso, spesso, secondo me, di manovrare un'azione d'attacco che non riesce mai ad arrivare, effettivamente. Perché? Perché l'Inter è più cinica, perché l'Inter è più forte. Al Sassuolo mancano Caputo e Berardi, mi pare, anche Locatelli. Al Sassuolo mancano i grandi giocatori, ma non per questo l'Inter aveva una gara facile. La Roma ci ha pareggiato con il Sassuolo, a cui mancavano tutti questi giocatori. Detto questo, l'Inter è più cinica. La sblocca Lukaku sull'asse Young-Lukaku. Nel secondo tempo la Lula si completa. Non so perché la videocamera mia si blocca adesso, ma un cazzotto al computer lo spacco. Vi dicevo, la Lula si completa perché dopo Lukaku, Lautaro fa il gol del 2-0. Quello che realmente chiude la partita. Ecco, su questo io pensavo inizialmente non ci fosse nulla, poi l'ho riguardato. In realtà lì si doveva passare a una situazione di pareggio, invece che passare a una situazione di 2-0. Perché su un contropiede Lautaro segna, ma lì l'ho vista, l'ho rivista e poi l'hanno anche confermata in moviola. Ci doveva essere un calcio di rigore per tocco sul Raspadori, lì serviva a dare il calcio di rigore al Sassuolo. Non è stato dato e addirittura è stato dato il 2-0 all'Inter. Ecco, questa è una situazione di favore verso l'Inter. Però comunque, tutto sommato, nonostante il Sassuolo abbia fatto tanto possesso palla, secondo me è un possesso palla talmente tanto sterile che c'è poco senso anche metterci a lamentarsi. Mettersi a lamentarci, come cazzo si dice. Poi vabbè, tra ore e là accorcia, ma c'è poco da fare. Alla fine l'Inter vola e così è. Vi dico il migliore in campo dell'Inter e vi dico sempre Romelu Lukaku. Vi dico il peggiore in campo del Sassuolo e vi dico Kirikesh, che ha perso entrambi gli uomini appunto sui due gol. Passiamo al paggellone di Juventus-Napoli. Anzi, come dico sempre, pa 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 pa, Gelle. Allora, Gianluigi Buffon gli diamo un sei e mezzo. Io credo che Buffon abbia una personalità talmente tanto forte che sia molto importante nel futuro, nel futuro, nel presente di questa Juventus, nel futuro no. Però nel presente sì. Lui è un po' il professore, cioè lui dà disciplina alla squadra. E questo, secondo me, è un vantaggio importantissimo. Quindi, secondo me, indubbiamente, Gianluigi Buffon è importante e lo è stato anche nel match di ieri contro il Napoli. Fase difensiva. Delict gli do un sei meno meno, in realtà. Non mi ha fatto impazzire. Diciamo che ogni volta che insegna l'appuntato è andato in difficoltà. Però non è che abbia preso sta grande insufficienza. Giorgio Chiellini gli do sei. È vero che lui, se non sbaglio, è lui a fare il fallo da rigore. Però devo dire anche che ha fatto una gran partita. Cioè, secondo me, è lui il leader, cioè è stato lui il leader ieri sera rispetto a Delict, che è il contrario. Ed è quello che poi Delict ci ha abituato, ovvero ad essere il leader. Quindi gli faccio un plauso. Alessandro sei meno. Anche Alessandro non mi ha fatto impazzire. Diciamo che la difesa della Juventus ha sofferto abbastanza. Il Napoli poteva anche ottenere qualche rete in più, qualche occasione in più. E mi è piaciuto invece Danilo. Danilo io voglio dare addirittura un sette meno meno. A me Danilo mi è piaciuto tanto, sia in fase difensiva, sia in incursione quando va a spingere. È molto molto bravo. Spesso ferma Insigne, quindi secondo me è veramente tanto di cappello. Per quanto riguarda Quadrado, gli do un 6+. Diciamo che spesso lascia vuoto la sua parte, la sua parte di territorio. Però devo dire comunque che in fase di spinta è veramente insidioso. E a McKennie voglio dare 6,5. Per cui 20 minuti al giorno, secondo me, si è visto il cambiamento, il cambio di marcia, il cambio di rotta. Si è visto il passo differente. Quindi bravo McKennie. Bravo veramente McKennie. Il centrocampo della Juventus è molto buono, secondo me. A Rabiot do addirittura sette. Ho visto Rabiot impostare. E credo che la Juventus, l'avevo detto ieri, lo ripeto oggi, credo che la Juventus l'abbia vinta soprattutto a centrocampo, dove ha fatto molto molto bene. E a Bentancur anche do un 6,5, che è un voto leggermente più basso rispetto al 7. Però credo che all'improvviso la scelta di lasciare fuori Artur e di far giocare Bentancur e Rabiot sia stata positiva per una volta, per Pirlo. Perché anche Bentancur a me personalmente è piaciuto. Per quanto riguarda la fase offensiva, do 7,5 a Chiesa. È pazzesco. Migliore in campo, secondo me. Indubbiamente migliore in campo. Fa quello che vuole. Fa veramente quello che vuole. Distrugge qualunque cosa. E è veramente assurdo quanto bene stia facendo Federico Chiesa con la maglia della Juventus. Per quanto riguarda Morata, gli do 6,5, 6,5 anche. Lo dicevo ad inizio video di ieri. Secondo me Morata è il lavoro che fa importantissimo. Quando Morata va in pressing il Napoli fa fatica a creare da dietro. E questo non è un fattore da sottovalutare. Per questo a Morata gli do un voto abbastanza alto. Poi certamente delle volte, dopo dopo ragazzi devo prendere a cazzotti il computer perché mi si continua a bloccare la telecamera ed è una cosa che non sopporto. Vi dicevo, indubbiamente poi Morata non è l'attaccante che esplode. Ecco, a Di Bala do 7. Perché Di Bala entra, fa gol. Ben tornato a lui, la decide subito, la chiude e il gol di Di Bala è importantissimo ed è anche molto molto bello. Quindi sì, a Di Bala do un voto alto e credo che la Juventus con un Di Bala così da inizio anno avrebbe 10, 15 punti in più. Cristiano Ronaldo gli do 6,5 perché non è che faccia tantissimo. Il primo gol in realtà lo sbaglia, ma poi il gol, il primo gol effettivo, il primo tiro lo sbaglia, il primo gol lo fa lui. E c'è poco da dire secondo me, quindi assolutamente sì. A Pirlo do un 7,5 perché secondo me ha vinto su tutti i ballottaggi, su tutte le sue decisioni. Ha puntato su un centrocampo strano ma ha avuto ragione per puntare su quel centrocampo lì. Ha puntato su un modulo particolare come fa sempre lui e ha fatto bene. È stata la Juventus più bella dal centrocampo in su secondo me di tutta la stagione, escludendo ovviamente Barcellona-Juventus. E secondo me il gran merito è di Pirlo, quindi per una volta che Pirlo ha un merito, diamogli il merito. Per quanto riguarda il Napoli, rapidamente a Meret la sufficienza gliela do un 6-, perché spesso manca l'urlo. Mentre sento sempre che perennemente urlare a Buffon, a Meret manca l'urlo. Però devo dire che a Meret qualche bella parata l'ha fatta. Per quanto riguarda la fase difensiva, ci sono i due centrali che hanno fatto discretamente bene, ai quali do entrambi 6. Cioè Coulibaly e Ramani. Credo che Ramani sia in crescita. Certamente non prendono voti più alti perché il Napoli non ha preso punti. Se il Napoli avesse pareggiato avrei dato 6 e mezzo a tutti e due. Gli do 6 proprio per questo. Di Lorenzo non fa malissimo. Il do 6 anche a lui perché manca il Di Lorenzo che offende. Però difende molto molto bene. Avendo un cliente scomodissimo come Chiesa, ha dovuto rinunciare spesso alle follate offensive per chiudersi dietro. Isai 4 ragazzi. Non è cattiveria ma Isai non ci ha capito niente. A parte che Chiesa stava dalla parte di Isai in realtà. Ho detto una mezza cazzata. Non ci aveva... C'è un po' di Lorenzo che ci ha avuto chiesto, me lo ricordo. Vabbè, comunque poi sarete voi ad aiutarmi in questa idea. No ragazzi, Isai non ci ha capito niente. Cioè Isai penso che a fine partita si è messo a piangere. La mediana del Napoli 5 e mezzo a Demme. Che è l'equilibratore ma spesso va in difficoltà. 5 e mezzo a Fabian Ruiz. Che delle volte lo vedo moscio. Che delle volte non lo vedo in palla. Che delle volte lo vedo troppo debole per un match come quello contro la Juventus. Dove devi entrare con la Cazzimma. E allo Zano gli do 5 meno meno. Ha fatto un fallo che era un rigore netto. Non so come sia possibile che non gli è stato dato quel fallo. Quel rigore alla Juventus su Chiesa. Gli è andata molto bene. Però io mi domando cosa gli sia passato per il cervello. E a Puritano gli do 5 e mezzo. Non ha inciso. Non ha fatto male come lo Zano. Però secondo me non ha inciso. Per quanto riguarda la fase offensiva. Che poi Zialeschi manca troppo offensiva. Zialeschi gli do 6 più. Parte da 5, arriva da 7. Alla fine gli do una media tra i due voti. Primo tempo pessimo. Secondo tempo molto importante. Imponente sale in cattedra. Quindi complimenti. Però sul primo tempo c'è qualcosa da dire. Secondo me il fatto che il Napoli faccia fatica a creare. Proprio per un fattore di distanza di Zialeschi. Che giocava troppo avanti. Mertens 5 e mezzo. Che è la media tra. Quando fa la punta 6. E quando fa il trequartista 5. Non mi ha fatto impazzire. Mertens si è nascosto parecchio. Ad Insigne invece gli do un 6 e mezzo più che piano. Potrei dargli anche tendente al 7. Forse è un 7 meno meno in realtà. Perché Insigne è l'ultimo a mollare. Ci crede tanto. Udino a giro lo prova spesso. A grandi occasioni. Quindi secondo me bravo. Insigne. E a Gattuso mi sento di dare un 5 e mezzo. L'insufficienza non è grave. Però il Napoli in questa gara doveva far punti. E secondo me peserà tanto. Il fatto che il Napoli in questa gara di punti effettivamente non ne abbia fatti. Perché era lo scontro diretto per eccellenza. E secondo me pesa tanto. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Ragazzi ci tengo tanto. Vi prego ci tengo tanto. Acquistatelo. Iscrivetevi. Lasciate tantissimi mi piace qui sotto. Vi ringrazio. Buon ciao all'alene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.